1.600 piastrelle di ceramica di castelli 25x50 andranno ad abbellire la passeggiata e soprattutto la seduta del molo sud del porto di Giulianova. Illustrato il progetto nato da una collaborazione tra l'ente porto, la camera di commercio e 15 ceramisti di castelli che hanno realizzato le decorazioni lavorando direttamente su pietra lavica arrivata dalle pendici dell'Etna. Sono 440 metri di seduta che verranno interamente coperte da queste mattonelle realizzate da 15 laboratori di castelli e quindi sarà anche il simbolo della volontà di rinascere delle nostre zone interne oltre che a qualificare il nostro porto. Soddisfatto dunque il presidente dell'ente porto Marco Verticelli che sta portando avanti un programma di valorizzazione del porto giuliese. Presto verrà realizzata una pista ciclabile a ridosso della banchina di riva mettendo in sicurezza il tratto riservato al percorso delle bici. Un progetto che piace molto anche al nuovo sindaco Ivan Costantini. Inoltre il Molo Sud sta sempre più diventando un punto di riferimento anche per l'organizzazione di eventi legati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio. Il porto di Giulianova comunque è il luogo di frequentazione di decine di migliaia di turisti anche nella stagione estiva. Chi viene in vacanza in provincia di Teramo ovunque va comunque la passeggiata sul porto se la fa ed è quindi utile e necessario sfruttare questa potenzialità. Finiamo di ristaurare questo muretto dai cosiddetti caliscendi fino al faro d'ingresso e quindi sono altri 300-400 metri di interventi per la messa in sicurezza ma anche per l'abbellimento. Al fianco dell'Enteporto il partner principale, la Camera di Commercio di Teramo, che ha sposato in pieno la politica messa in campo in questi anni dal presidente Verticelli. Insieme all'Enteporto abbiamo deciso di fare questa iniziativa. Quando qualche mese fa c'è stata sottoposta dai ceramisti castellani questa splendida idea abbiamo volentieri aderito perché crediamo che la valorizzazione della ceramica di Castelli, degli imprenditori di Castelli, significa valorizzare la nostra economia, la nostra territoria e i fini turistici. L'iniziativa con i ceramisti di Castelli ha un valore fondamentale anche sotto il profilo dell'immagine che si vuol dare al porto di Giulianova, sulla scia peraltro di altre grandi realtà che hanno saputo dare un valore aggiunto ai territori. Noi oggi facciamo una cosa bellissima che rimarrà, mi auguro, veramente a lungo, non nella storia, però considerando le esperienze di altre città o di altri paesi tipo la Spagna con la piazza di Valencia con le ceramiche oppure la scalinata di Caltagirone, 142 gradini di ceramica, l'alzata di ceramica, io credo che il porto a Giulianova possa essere veramente una vetrina aperta all'aperto per far sapere e conoscere le ceramiche di Castelli a tutto il mondo.